Ciao a tutte e tutti, io sono Vivian e in questo video faremo un macro ripasso dell'anatomia dell'apparato riproduttore femminile. Vi farò inoltre qualche piccolo cenno di patologia, in particolare delle patologie che possono andare a colpire questa parte del nostro corpo, sperando di rendere questo discorso un po' più interessante per voi, mentre la parte di fisiologia verrà affrontata nel prossimo video. Partiamo dal definire che cos'è l'apparato riproduttore femminile. È innanzitutto un apparato, quindi è un insieme di organi costituiti da diversi tipi di tessuti, a differenza dei sistemi che sono insiemi di organi costituiti dallo stesso tipo di tessuto, come ad esempio il sistema scheletrico o il sistema muscolare. L'apparato riproduttore femminile quindi è costituito da organi fatti da diversi tipi di tessuti e questi organi si trovano all'interno di una cavità chiamata cavità pelvica, che è questa cavità che vedete qui in azzurrino nella figura, che comunica con la sovrastante cavità addominale. La cavità pelvica è delimitata superiormente dal margine superiore delle osse del bacino ed è delimitata inferiormente da un gruppo di muscoli che vanno a costituire il pavimento pelvico. Degli organi dell'apparato riproduttivo femminile si distinguono degli organi interni, che sono le ovaie, le tube, l'utero e la vagina, e degli organi esterni, ovvero la vulva e la clitoride. Vediamo come sono disposti questi organi. Partiamo dall'utero, che come vediamo qui si rapporta anteriormente con la vescica e posteriormente con le ultime ansie intestinali, in particolare del colon. Con il colon però non si rapporta direttamente, ma tra le due strutture è presente una cavità detta cavo di Douglas. L'utero comunica lateralmente con le tube uterine, all'estremità delle quali è presente l'ovaio. L'utero inoltre comunica inferiormente con la vagina, che sbocca con il vestibolo pulvare ed è circondato dalle grandi labbra e dalle piccole labbra più internamente. La vagina inoltre si rapporta anteriormente con l'uretra e posteriormente con il retto e con il canale anale. Vediamo l'utero, che è un organo muscolare cavo, impari e mediano. Per organo cavo si intende chiaramente un organo che presenta una cavità al suo interno, a differenza degli organi cosiddetti parenchimatosi, che non presentano cavità e sono costituiti interamente da un tessuto chiamato appunto parenchima. Un esempio di organo parenchimatoso è il fegato. L'utero inoltre è impari, questo vuol dire che ce n'è uno solo all'interno del nostro corpo, e mediano vuol dire quindi che si trova sulla linea mediana del corpo. Ha all'incirca la forma di una pera a testa in giù e ha le dimensioni approssimativamente di 5 cm per 5, dico approssimativamente anche perché queste dimensioni variano moltissimo nel corso della vita di una persona, soprattutto in base a se ha figli o meno. Si parla di plinipara, in chi ha avuto un solo figlio, pluripara, chi ha avuto più di un figlio, o nullipara, chi non ha avuto figli. Ripetiamo quindi che l'utero comunica lateralmente con le tube e inferiormente con la vagina, mentre si rapporta anteriormente con la vescica e posteriormente con le anze intestinali e con il retto. Andiamo a vedere meglio come è costituito questo organo. Si distinguono tre porzioni, che sono il fondo dell'utero, il corpo dell'utero e il collo dell'utero, chiamato anche cervice uterina. Della cervice uterina si distingue inoltre una parte che sporge all'interno del canale vaginale, che viene detta porzio. Le pareti dell'utero sono costituite da tre strati di diversi tipi di tessuto, partendo dal più interno, questo è l'endometrio, che è lo strato di mucosa che si sfaldano mensilmente durante le mestruazioni. Lo strato intermedio, invece, è il miometrio, che è questo spesso strato muscolare, che è importante sia per l'espulsione dell'endometrio durante le mestruazioni, ma è chiaramente responsabile anche delle contrazioni durante il parto. L'utero è rivestito esternamente da una membrana serosa, chiamata perimetrio. E come promesso, qui una piccola nota clinica, gli uteri che abbiamo visto nelle slide precedenti sono tutti degli uteri posizionati in maniera fisiologica, posizionamento fisiologico dell'utero viene detto anteroverso. In alcune persone si verifica un posizionamento retroverso dell'utero, si parla quindi di utero retroverso quando questo è più orientato verso la parete posteriore del corpo. Questa è una condizione che di per sé non causa una malattia grave, ma in alcune persone può essere responsabile di una serie di sintomi, talvolta anche gravi, come ad esempio il dolore mestruale eccessivo. Passiamo ad escrivere le gonadi femminili, che sono chiaramente le ovaglie, che sono due ghiandole pari a forma di circa di mandorle lunghe 4 cm e larghe 2, che si trovano sospesse all'interno della cavità peritoneale. Sono collegate all'utero mediante un legamento, che viene chiamato legamento ovarico. In questo slide vediamo come all'interno dell'ovaglio avviene il processo di maturazione dei follicoli ovarici, che da follicolo primario diventano follicolo maturo, detto anche follicolo di Graff, dal nome di questo signore qui, Regnier de Graff, che ha descritto per la prima volta quindi il follicolo ovarico a circa metà del 1600. Il follicolo maturo andrà incontro all'espulsione dell'ovocita e dopodiché si trasformerà in una ghiandola temporanea chiamata corpo luteo. Se l'ovocita non viene fecondato, il corpo luteo degenererà in corpus albicans, che è questo piccolo ammasso di tessuto fibrotico che verrà poi gradualmente riassorbito. Anche qui una piccola nota clinica su una patologia che può andare a colpire l'ovaio, che è anche molto frequente riscontrare nella popolazione femminile, che è la sindrome dell'ovaio policistico. Essenzialmente le persone affette da questa sindrome presentano il tessuto dell'ovaio ripieno di tante piccole cisti ovariche. Queste si formano presumibilmente da un follicolo maturo che anziché espellere l'ovocita continua il suo processo di accrescimento andando a formare questa struttura cistica. Le persone che hanno questa sindrome tendenzialmente sono infertili, perché chiaramente non essendoci l'espulsione dell'ovocita questo non potrà essere fecondato. Passiamo quindi alle tube, che sono due condotti pari, che servono a captare l'ovulo rilasciato dall'ovaio e a condurlo verso l'utero. Sono lunghe all'incirca 15 centimetri e vengono chiamate anche salpingi oppure tube di falloppio. Dal nome dell'anatomista padovano, che l'ha descritta per la prima volta a circa metà del 1500. Vediamo più nel dettaglio come sono costituite le tube, che presentano una parte intramurale che appunto passa all'interno della parete dell'utero, e un istmo che collega la parte intramurale all'ampolla. L'ampolla invece è la parte più importante di maggior calibro della tuba ed è la sede in cui tipicamente viene la fecondazione dell'ovocita. La parte terminale delle tube viene detta infallibolo e dalla quale sporgono questi tralci di tessuto chiamate fimbria, che sono estremamente importanti per captare l'ovocita rilasciato dal follicolo. Una patologia che può andare a colpire le tube di falloppio sono le gravidanze ectopiche. Le gravidanze ectopiche sono il fenomeno che si verifica quando un'ovocita secondato, anziché percorrere il suo normale tragitto e andare ad impiantarsi nella mucosa uterina, si impianta a livello della tuba. Questo chiaramente conduce ad una gravidanza non vitale che è importante asportare perché con l'accrescimento di questo gruppo di cellule si può determinare un notevole danno alla tuba ma anche a tutte le strutture circostanti. Possiamo quindi descrivere l'ultimo organo interno dell'apparato riproduttore femminile che è la vagina. La vagina è un canale fibromuscolare che, come abbiamo detto prima, si estende dall'utero fino al vestibolo vulvare. Misura a riposo circa 7-8 centimetri ma anche queste misure sono molto variabili soprattutto in base all'etnia della persona che andiamo a considerare. Dico a riposo perché durante l'eccitazione sessuale la vagina accresce in dimensioni e può arrivare anche a 11-12 centimetri di lunghezza. Abbiamo detto quindi, veniamo qui un po' più nel dettaglio, che la parte di colo dell'utero che sporge all'interno della vagina, possiamo vederla qui, è detta polzio. La vagina stessa comunica con l'esterno tramite il vestibolo vulvare che appunto si apre a livello della vulva ed è circondato più internamente dalle piccole lambra e più esternamente dalle grandi lambra. Passiamo quindi a descrivere la parte degli organi esterni dell'apparato riproduttivo femminile. Parlando intanto della vulva, questa è una struttura che si posiziona in un'area chiamata perineo. Il perineo è delimitato superiormente alla sintesi pubblica e inferiormente dal coccige. Vedendo più nel dettaglio, a livello della vulva è presente il vestibolo vulvare nel quale sboccano l'orificio vaginale e l'orificio uretrale esterno. Oltre a questi due importanti orifizi sono presenti degli orifizi minori, ovvero questi, gli orifizi delle ghiandole di schene, posti lateralmente e inferiormente all'orificio uretrale, e gli orifizi delle ghiandole di Bartolini, posti invece lateralmente all'orificio vaginale. Questi sono degli orifizi di ghiandole che sono posti all'interno in profondità nel tessuto vulvare e producono un liquido importante per lubrificare la vulva durante l'eccitazione sessuale. Inoltre in questo slide vediamo anche la parte esterna della clitoride che è costituita dal prepuzio e dal glande della clitoride che sono analoghi alle strutture presenti nel pene maschile. La clitoride quindi è un organo erettile in pari e mediano lungo circa 2-3 cm deputato al piacere sessuale perché non ha una funzione precisa nella riproduzione. Abbiamo detto quindi che presenta una parte esterna costituita dal glande del prepuzio e una parte interna non visibile chiaramente all'osservazione esterna costituita dai corpi cavernosi che sono anche questi analoghi a quelli del pene maschile. Se a questo punto vi siete chiesti perché dico la clitoride, ecco la delucidazione, questa è una scelta personale dato che sia la clitoride che il clitoride sono corretti come termini, ma nelle prime descrizioni anatomiche di questa struttura veniva utilizzato il femminile, in particolare è stata descritta per la prima volta da Francesco Redi, anche qui a metà del 1600. L'ultima parte dell'apparato riproduttore femminile che è importante da citare sono le mammelle, che sono delle ghiandole pari posizionate anteriormente sulla parete doracica al di sopra del muscolo grande pettorale. Sono delle ghiandole lobulari, quindi organizzate in lobuli, con dei dotti che convergono a formare i dotti galattofori che formeranno il dotto principale che andrà a sboccare a livello del capezzolo, dal quale chiaramente fu riuscirà il latte durante il periodo dell'allattamento. L'area di pelle pigmentata che circonda il capezzolo invece è detta areola e a questo livello sboccano delle ghiandole chiamate ghiandole areolari o ghiandole di Montgomery che producono un segreto che essenzialmente serve a lubrificare l'area durante l'allattamento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a guardare il prossimo video per la fisiologia dell'apparato riproduttivo.